Siamo qui collegati dallo Stato Comunale Caduti di Sofisuerga. Attenzione c'è il Ventriglia, cogliamo l'occasione a volo, un'intervista. Il signor Ventriglia è in forma straordinaria, cosa ne pensi della sua forma? Secondo me è tutto merito del mister perché io ho voglia di giocare a calcio e quindi... Ho voglia di giocare a calcio e quindi voglio migliorare e voglio diventare un grande giocatore di calcio. Come pensa sarà la tua prestazione della partita di domenica contro la famosissima promozione? Dipende, io penso bene perché mi sono allenato bene queste ultime settimane. Mi sono allenato bene queste ultime settimane e penso che andrà bene per noi e anche per il mister. Il campo si sta risollevando, pensa che ce la faremo a giocare in un campo decente? Sì, sì, ma io sono venuta a sapere che lo devono anche rullare in queste settimane. Da Sofrisco a voi studio. Sì!